Allora ragazzi, io sono molto molto arrabbiato perché Charlotte non vuole più fare i video con me, non vuole più stare insieme a me per fare i video, non vuole fare niente, è solo concentrato nelle sue canzoni. Ma fortunatamente una sua fan mi ha detto il posto in cui sta registrando le canzoni è proprio adesso io ci sto andando ed è esattamente qua perché ho una cosa in mente che adesso vedrete. Prendiamo questi e andiamo. Sentite? Sento un pianoforte. L'ho saputo e ti ho portato un regalo. Grazie, ma perché sei venuto qui? Sto facendo lezioni. Davvero? Allora posso assistere a una lezione tua? Non lo so Alice può assistere a una lezione tua. Scusate, sono lezioni di nuovo ancora. Ha preso qualcosa. Che cosa hai qua? No, continua a provare, prova. Mi raccomando impegni a che cosa hai in mano. Leonardo, che cosa hai in mano? Camera man mi spieghi perché sei qua. Camera man, perché sei qua. Ok. Ragazzi è andato tutto secondo i piani. Ok, adesso dobbiamo andare via. Eccola qua, la chiavetta con tutte le nuove canzoni di Charlotte. E adesso andiamo a casa mia perché vedrete cosa ho in mente. Forza ragazzi, venite. Eccola, ciao. Allora, lei ragazzi è Gaia, la miglior cantante del 2020. Ciao. Ho la chiavetta, sei pronta? Sì, sì, ce la faremo, sono prontissimo. Ok, ora non sono un po' vecchia però devi impararla. Va bene. Prego. Prego. Sì, finalmente è arrivata l'estate. Ciao. Non so più nella teglia. Questo caldo mi spegne senza te. Oh no, che cosa farò se domani non ti vedrò. Oh oh, mi ricordo quando tu. No no, devo andare a scuola. Oh oh. Aspetta, aspetta, aspetta. Chi è? Ma chi? Ma? Avanti. Sei pazzo, non hai messo anche le mie canzoni nuove, vero? Tu Instagram. Non ancora. L'hai pubblicato, hai pubblicato questa storia di I love you. Hai fatto cantare anche le mie nuove canzoni, no vero Leonardo? Ti presento, esatto, ti presento Gaia. Ciao Gaia, sai dove è la chiavetta che mi ha rubato Leonardo? No. Leonardo dov'è la chiavetta? Dov'è la chiavetta? Ma aspetta, calmati, calmati. Dimmi dove è la chiavetta, ci sono le mie nuove canzoni. La chiavetta non ti servirà più perché lei ti sostituirà in tutti i tuoi eventi. Sei contenta? Ma sei pazzo? Dammi la mia chiavetta, Leonardo. Ci sono le mie nuove canzoni qui dentro. Allora, io sono il suo manager. Gaia, dammi la... Non ti presento. Non so dove, non so. Non è capitato di che guaio ti sei cacciato. No, ma la accompagno. Gaia, mi puoi dare, per favore, la chiavetta? No. La Gaia non serve dove è la chiavetta. Maia, Leonardo, dammi la... Sì, è qua fuori. Mamma mia, non pensavo venisse fino a qua. Cioè, ma proprio io non so. Ma non lo appellisco. Non lo pensavo a un attivamento leggero. Mi abbiamo fatto anche un piacere, adesso è vipera per tutta l'estate, no? No, davvero, io non capisco. Riprendiamo, forza. Sì, sì. E dobbiamo mettere anche le nuove canzoni, mi raccomando. Sì, dai, continuiamo, non lasciamoci distrarre. Ma, tieni. Io? Sì. Ma, c'è, lei è ancora qui seduta? Davvero? Sì, lo sai che lei può rovinare tutto? Sì, dobbiamo fare qualcosa. Dai, sbrigiamoci. In modo tale che non torni più. Eccolo. Questo è cemento. Ho capito come vuoi fare, andiamo. Sì. Sì. Come ti chiami, scusa? Cosa? Charles! Ragazzi, cosa state facendo? Forza, Gaia, ancora. No! Voi siete fatti! Non ci posso credere! Il mio telefono! Leonardo, io ti uccido, giuro, questa volta! Cameraman, io me ne voglio andare, voglio chiedere aiuto a qualcuno e non voglio te nei miei paraggi. Per favore, sparisci perché mi stai seguendo ancora, me lo spieghi cosa stai riprendendo. Non c'è più niente da riprendere. Cameraman, vedi il karma. Vieni, sali. Ora, io ti aiuto. Però, visto che sei caduto perché hai fatto i dispetti a me, ora tu aiuti. me a riprendere le mie nuove canzoni. Quindi, andiamo. Forza, muoviti. Ora ci riprendiamo le mie nuove canzoni. Devo trovare qualcuno che mi aiuti ora in mezzo alla strada. Dove bisogno? Sì. Aspetta. Ciao, scusa, come ti chiami? Marco. Marco, puoi aiutarmi, per favore? Sì. Perché un mio amico mi ha rubato tutte le mie nuove canzoni, essendo che faccio la cantante. E l'amica di questo mio amico le vuole far cantare a lei adesso. Quindi ha la chiavetta in casa sua. Casa sua è qua. Se per favore puoi far finta di essere una fan di questa ragazza. Così entri in casa sua, ti fai la foto e rubi la chiavetta. Ok, però ho poco tempo. Ok, basta, ci mettiamo poco, basta che riusciamo a prendere. Dai, fermo la macchina, arrivo. Grazie. Ok. Grazie. Ah, ma ti stanno riprendendo? Sì, c'è il cameraman. Ok, andiamo. Ok, arrivo, arrivo. Per favore, grazie mille. Tranquilla. Grazie Marco. Allora, ricordati che lei si chiama Gaia. Ok. Ti aspetto qui. Ok. Ciao, ciao, sono Marco. Chi hai portato? No, sono un fan di Gaia. Ci sarebbe modo di fare una foto. Gaia sta provando adesso. Ciao, scusa che sono un fan. Posso baciarti? Certo, piacere. Hai visto, sei già famosa. Grazie a me. Sono felice. Scusate, mi piacerebbe fare un foto con lei. Certo, tanto stava cantando, quindi puoi continuare anche se vuoi. Ok, posso stare qua? Sì, sì, prego. Oddio. Ok, dobbiamo riprendere però adesso. No, scusa, posso fare una foto? Sì. Dai. Veloce. Grazie. Allora, finisci se ripartiamo da quel... Ok, da capo. Sì. Vai, sì. Ora basta la foto però. Ah, ok. Già. Ok. Ok, però aspetta. Mi fai questo pezzo un po' più emozionante? Cioè, ok, mi fai più emozionante? Sì, esatto. Qua, in questo pezzo qua. Mi fai... Ok, ti rappro fuori il cuore, ok? Ok. Poi me lo fai lo stesso anche qua. Ne ritornello. Ok, ne ritornello dopo, va bene? Ok, va bene. Ok, va bene. Ok, certo. Ma... Vai, 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 vai. Dove sta andando? Seguila, seguila. Forza. Corri. Guarda, mi uomo lei. Seguila, seguila. Muoviti, lei è la chiavetta. Forza, vai. Sbrigati. Entra. No. No, 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 no. Non impiani qua. Non impiani qua. Non impiani la chiavetta. Non mi interessa. Dammi la chiavetta. Io non ti do la chiavetta. Dammi subito la chiavetta. Non ti do... Non ti avvicinare a me. Ti tiro l'uovo. No, 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 non farlo, non farlo. Ti tiro l'uovo in testa. Non farlo. Non ti avvicinare. Dai. Non ti avvicinare con me. Perché devi rubarmi la chiavetta? Tu devi rubare la mia chiavetta. Io non ho fatto la chiavetta. Prima di tutto ciò, a me hanno proposto di cantare delle canzoni. Non sapevo che erano tue. Dov'è Leonardo? Non lo so. Dammi la chiavetta, dai. Ora li tiro. Dammi la chiavetta. No, no, non ti do la chiavetta. Ti tiro l'uovo. Giuro, lo faccio. Leonardo, dove sei? Aiutami. Eccomi, forza, esci. Dobbiamo andare. Non ho la chiavetta. Ce l'ha sempre lei. No. Prendi la chiavetta, forza. Dammi la chiavetta. Non ti do la chiavetta. Dammi la chiavetta subito. No. No. Rimani da sola, vai. No. Leonardo. Non ti do la chiavetta. Leonardo. Un po' di uovo anche a te. E da qui adesso non uscirai. No. No. Leonardo, apri. Non posso. Mi dispiace. Apri, Leonardo. Ma per me, dov'è l'altro ragazzo? Forza, corri. Marco, aiutami. Marco. Eccolo. Ho visto. Vai, prendilo, prendilo. Fermo. No, no, no. Sui cittino. Giuro. Ci ha mentito. Giuro, giuro. Non vi conosco, non vi conosco. Giuro, 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 giuro. Giuro, giuro. Giuro, giuro. No, non c'entro niente. Non c'entro niente. Non c'entro niente. Veni in colpa. No, Venomino, non c'entro niente. Veni in colpa. Non c'entro niente. Te lo direi dopo. Fermo. Forza, andiamo. Dobbiamo fare una cosa. Togliti la felpa subito. Sì, almeno la laviamo. Sì, perché se l'uovo è poi secca non va via. Mannaggia, ti ha tirato l'uovo addosso? Sì, proprio diretta mi ha presa. Ti ho fatto male? No, no, per fortuna no. Ok, ora la laviamo e aggiungiamo il sapore. Oddio, che giornata, eh? No, davvero. Infinita. Però adesso possiamo provare nuove canzoni, no? Sì, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Finalmente. Faremo un bel tour insieme. Grazie a tutti.